Il PD ha sbagliato a fare questa alleanza con i 5 Stelle per formare il Conte Bis? Il PD si è interrogato, perché non è stata una decisione semplice. Ma lei era favorevole o no? C'erano opinioni diverse. Ma lei, Paolo Gempino... Io avevo qualche dubbio. Ma Re si disse in un fuorionda che lei lavorava per far fallire il governo? Io non lavoro mai per far fallire nessuno. Io ho espresso delle opinioni. Il bello del PD è che poi a un certo punto si prende una decisione, la si prende tutti insieme, incluso Renzi. C'era anche Renzi nel PD quando prendemmo questa decisione e quindi il governo nasce per una decisione, alla fine addirittura unanime, del Partito Democratico, incluso Matteo Renzi, di farlo nascere. Penso che ovviamente fosse una scommessa. Si dice che è una maggioranza abbastanza anomala. Certo, non è una maggioranza scaturita dalle elezioni. Ma è una scommessa che si sta perdendo? Io penso che sia molto presto per dirlo, sinceramente. Vorrei dire due cose. Primo, è vero che non è una maggioranza scaturita dalle elezioni, non è la prima volta. Neanche quella precedente. Non è l'unico paese in cui succede, se ci guardiamo intorno in Europa, la frammentazione politica sta producendo maggioranze anomale, a spiovere proprio, cioè dappertutto, non dappertutto ma in tantissimi paesi, dove non c'è un sistema istituzionale che proprio lo impedisce, nascono le maggioranze più imprevedibili. Quindi la sfida in sé è una sfida che può essere assolutamente tentata. naturalmente sempre è l'interesse del paese che deve prevalere. Quindi questo governo deve andare avanti, per capirci. Certamente deve andare avanti. Fino a quando? Chi fa il mio lavoro, il mio lavoro imminente, diciamo così, non può che augurarsi innanzitutto la stabilità di un governo come quello italiano, che ha fatto una scelta europea molto netta. Quindi più riesce a conservare questa scelta, di un allenamento instrumentaria innamora… Quindi… Ecc errado… … …